E' da tanto tempo che non lo vedo, Filippo. Vieni, 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 compro i venti, è tutto nuovo, è molto bello nuovo. Ciao, ciao, saluti di Filippo. E' più un gatto, te ti saluti a un gatto. Come sta maniata dai gatti, se lo sai che manda a salutarli, dobbiamo anche che lascia un pende. Cogliusa è una brava donna, ma cogliusa, non te la cogliusa. Non lo c'è la trichetta cintera, te scelgo. Qual è la trichetta, come è tu? Mi fa, mi fa un secondo. Lei, perché la trichetta non capisce. Cosa, stiamo qui? Non c'è la trichetta, non c'è la trichetta, non c'è la trichetta? Cosa, non c'è la trichetta. Ma deve essere due leggeri, nella prima categoria, allora specialmente. Noi altri non l'abbiamo mai vista, perché è quello che è mai venuto. Però ricordate che deve essere due, queste trichette donne, perché se non andiamo fuori di cubre da te, con le cuscine santo, bisogna essere realmente gravi. Mamma mia. Ma ti rendi conto che cosa l'ho detto? Che sarà qui a momenti? Ma non ti preoccupare. Ma come facciamo noi? Qualcosa per entrare? Ma proprio qui dove deve venire? Non poteva andare in un altro posto, con tutti i posti che ci sono, accidenti. Non ti preoccupare. Noi per il momento ti fai una cosa, ti nascondi. Poi qualcosa inventeremo, sai? Tutto va a posto, sta parlando. E lo fa? Ma cosa ti vuoi che... E da, 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 da! Ma no, ma perché lo fa? Ma perché la tua mano si dì? Ehi! Ci pensiamo noi, zio, guarda. Un impatto? Ti facciamo un bel impatto. Mi l'ha regalato. E da non io, se non sei ose, a sta moda che regalare la roba. Avere il tappeto. Le vedo per la stanza. Guarda che va il tappeto. Le miole, le miole. Buona donna. Ma un sacco c'è una cosa qui. Come passi, se vinto a pucceo, perché me e maio, o la qualun vi esso, che non se la hai pe. E con ciò che non ciasta tutti. Ciò che ne sei un tinta, riuscire a più di subito. Questa turistica, che non ne fanno niente. Se vuole sentire, provare che la siete buona. Mentre anche... Siamo, siamo, siamo dulce. Ma quello che deve manca fare, perché non è tanto più giusto, ma io, da che ne ho due, che non se ne fanno. Io sono Pia. Io Filippo. Piacere, piacere. E io cambierà. Quanto siamo? Conta, conta quanto siamo, se tu disavei termini. 10, eh? Le rifasso un minuto, perché se ce n'è andato di più delle voci. Oh, direi che la pucce scoglie. Sì, sì, lo dico io, ma avversi, no? Ma uno ha detto? Non ho detto niente. Uno ha detto niente, ma non si vede che uno, che gli ha giocchi. Ecco, sì, sì. Perfetto. E so, un po' pochina, ecco. E ma le mezzo, perché la roba che è forte. Filippo, piuttosto di acqua, no? Sì. Boh? Ma da mani manca, quando ne manca, giù, due, 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 due. Da giù non sono stessi niente. E per ma? Eh? Tu sai che a Filippo, che hai stato un dolore che fa, che hai un amico che sta sempre mal, sta male anche a me, sì. Tutto che fa, colo, poi, un po' e un po' ci e giù, ci credo, giù. O fa un movimento, lì, Filippo. Eh, ci, ci. Come le pia, ci, tutto. O va, o va, ci e giù, eh, c'è il frascio, sì. Deghe? Eh, dici? Mi raccomando, a Sune, eh, a fa sempre mente queste cose, eh, stia. Eh, tanto, eh. Oggi, vai ricargarga la signora, Non è bello, non è bello, non è bello. Sio Filippo, salute, alla sua, eh. Salute. Signora, alla sua. Alla, tanti grazie, che si tropeva tutta la vita. Eh, allora capisci, che viene nervoso a saperlo, no? Eh, viene nervoso, sì. Giovanì qua che si rovinano, non è nervoso. Eh, sì, bene che, facer bene. Il minimo Bruccialli, vivi, vivi, dico vivi, no? Il minimo che... farfaletta di cunà, brillantina in abbondanza, riga dritta pulataia, ueva sette a valentì, e su bassa uva del aglia. Dici tu, dai, eh, va bene. Ma non andate tanto forte, eh, io mi sento, eh. io me li faccio sempre i miei affari. Cagli agli altri non ne siamo niente, perché non gli altri con una brezza, perché non... Ma le di esse, ma le di esse, come è tutto? Per faccia. Io aspetto un bambino. Allora, aspetta, non franessa. Ho capito. Non sappiamo dove andare a vittare. Io non so, non so, non so, poi va lì. Ho sentito. E allora, insomma, abbiamo pensato, che vuoi? Potevate aiutarci? Marchi. Veni, su. Oh, sei figlio, capito, ragione, parete malani, vuoi ne va a cubare.